E fu così, ma anche cos'ha, che bimbi, mamma e papà scoprirono l'incantesimo che faceva stare tutti bene nel regno di molto molto vicino a Milano. Buonanotte. Buonanotte mamma. Buonanotte. 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 Oggi la salute è una storia di tutti. Perché col progetto Visita Sospesa, ogni volta che fai una visita da Welcomed, ne doni una a chi non può permettersela. Welcomed, il centro per le famiglie. Tutte.